Ti saluto con la pace del Signore, Dio ti benedica, buongiorno e benvenuto in questa nuova sezione di mini studio biblico dove continueremo a studiare e a considerare il libro del Levitico che abbiamo già iniziato da qualche settimana. Siamo ancora al capitolo 1 e anche in quest'oggi sono convinto che lo Spirito Santo ci insegnerà qualcosa per mezzo della parola, per mezzo della Bibbia e sono convinto che lo Spirito Santo continuerà a modellare il nostro cuore, continuerà a cambiarci, continuerà a migliorarci, continuerà a fortificarci, continuerà l'opera che lui ha iniziato nella nostra vita proprio per mezzo dell'ascolto della parola di Dio perché la parola di Dio ha questo impatto quando l'uomo la ascolta, la medita, la legge, la studia, l'impatto è forte però porta un frutto meraviglioso, benedetto dal Signore. Amen. Quindi prima di iniziare a leggere qualche versetto della Bibbia voglio invitarti a pregare quindi ti invito a chiudere i tuoi occhi e pregheremo insieme il Padre nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Signore Padre Celeste, Dio nostro, intanzitutto vogliamo ringraziarti perché anche oggi ci hai dato la vita e non è poco. Ti vogliamo ringraziare perché anche oggi abbiamo questa meravigliosa opportunità, questo privilegio di poterci accostare alla tua dolce presenza e poter ascoltare la tua voce per mezzo della lettura della tua parola. Noi siamo pronti Signore, vogliamo ascoltarti, vogliamo imparare, vogliamo crescere, vogliamo comprendere quello che c'è da dirci, quello che hai preparato per ognuno di noi e nel farlo vogliamo chiederti prepari il nostro cuore. Prepari i nostri cuori per ricevere la tua santa parola e cambiaci Signore, modellaci, insegnaci, trasformaci secondo la tua gloria e la tua volontà e guidaci in questa meditazione, benedicici insieme, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetto con te in eterno. Amen. Amen. Allora siamo, abbiamo detto, nel capitolo 1 del libro del Levitico, abbiamo letto diciamo quasi tutta la prima parte che si trattava di questa offerta volontaria di bestiame grosso, in questo video tratteremo gli altri due elementi, diciamo l'offerta volontaria di bestiame piccolo oppure l'offerta volontaria, no oppure è l'offerta volontaria degli uccelli, un'offerta, andiamola a leggere, siamo nel capitolo 1 dal versetto 10 in poi, dice così la parola del Signore. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio senza difetto, lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al Signore. I sacerdoti, figli di Aronne, ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato, poi lo taglierà a pezzi e insieme con la testa e il grasso il sacerdote li disporrà sulla legna messa sul fuoco sopra l'altare, ma laverà con acqua le interiora e le zampe, poi il sacerdote offrirà ogni cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Versetto 14. Se la sua offerta al Signore è un olocausto di uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani piccioni. Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli staccherà la testa, la brucerà sull'altare e il sangue sarà fatto colare sopra uno dei lati dell'altare, poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene e lo getterà sul lato orientare dell'altare nel luogo delle ceneri. Spaccherà quindi l'uccello per le ali, senza però dividerlo in due e il sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna messa sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Amen. Fin qui la parola di Dio. Bene, come abbiamo potuto notare ci sono due segmenti di sacrifici volontari, uno di bestiame minuto e uno olocausto di uccelli. Se chi desidera offrire il sacrificio non è in grado di utilizzare un animale di bestiame grosso, come quello che abbiamo analizzato nel video precedente, quindi un toro, un animale di bestiame grosso, per questione ovviamente prettamente economica, si può accettare un animale che faccia parte del bestiame minuto, una pecora o una capra, come abbiamo potuto ascoltare dai versetti che abbiamo appena letto. Ora, la procedura dell'offerta è praticamente identica a quella descritta per il bestiame grosso, anche se vengono emessi alcuni dettagli. Un dettaglio invece è nuovo in questo testo. L'animale viene sgozzato dal lato settentrionale dell'altare. Ora, la ragione di questa diversa collocazione non è chiara. Forse, però dico forse, è stato fatto per motivi pratici, ma la Bibbia non ci dà spiegazione. Quindi noi, io sono abituato a non ipotizzare ciò che la Bibbia non pronuncia, perché quando noi iniziamo a ipotizzare, nascono le dottrine, nascono tante cose che non vanno bene. Allora, io penso che non ci sia nessun motivo per la quale Dio abbia scelto di far il sacrificio sul lato settentrionale dell'altare, però magari, chissà, qualcuno, forse si inventa qualcosa e fa dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Io preferisco tacere quando la Bibbia tace, quando la Bibbia parla è giusto parlarne. Quindi, come abbiamo visto, la procedura è essenzialmente identica a quella di prima. Quindi abbiamo visto pecoro o capra. Se invece non è in grado di sacrificare né un toro, né un agnello, né una capra, si possono portare in dono tortore o piccione, degli uccelli un po' più minuti. Ora, la Midrash fornisce una giustificazione, richiamandosi al Salmo 22, versetto 24, che dice così. Poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Ora, non so per quale motivo alcuni commentatori pensano che la Midrash fornisce una giustificazione a questo testo, però comunque sia, l'ho trovato in alcuni libri e l'ho condiviso con voi. Quindi, a questo punto, io alla fine di questo video, diversamente da tutti gli altri, in questo video io propongo una cosa nuova. Propongo delle domande. Domande alla quale mi sono posto e ci possiamo porre e poi vorrei consultare insieme a te delle risposte, ovviamente inerenti a quello che abbiamo studiato finora, in questo capitolo. Allora, la prima cosa, la prima domanda che voglio porti è questa. Che cosa rende essenzialmente accettabile un olocausto? Cosa lo rende accettabile? Ce lo dice il versetto 3 e il versetto 10. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza difetto. E così anche nel versetto 10. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio senza difetto. Quindi ciò che rende accettabile il sacrificio davanti agli occhi di Dio è il fatto che l'animale deve essere senza difetto, deve essere sano. Domanda a questo proposito. Ma c'è mai stato qualcuno che ha portato un sacrificio al Signore che abbia avuto dei difetti? Perché se il Signore lo sta sottolineando molto probabilmente penso che ci sarà stato. E allora andiamo a leggere nel libro del profeta Malachia al capitolo 1 leggeremo il versetto innanzitutto il versetto 6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi o sacerdoti che disprezzate il mio nome. Parole forti eh? Disprezzate il mio nome. Ma come mai il Signore usa queste queste frasi? Come mai si rivolge ai sacerdoti dicendogli che lo disprezzano? La risposta lo troviamo al versetto 8 dello stesso capitolo di Malachia capitolo 1 versetto 8. E' Dio che sta parlando e gli sta rispondendo a questi sacerdoti che disprezzano il nome di Dio. Quando voi offrite in sacrificio una bestia cieca non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti? Quindi cosa sta facendo Dio? Sta parlando ai sacerdoti e gli sta dicendo voi mi avete portato pecore animali zoppe cieche difettose il contrario che devono essere senza difetto difettose e gli sta dicendo al popolo. Scusate un attimo ma se voi mi chiamate padrone cosa mi state portando? La miseria delle vostre cose? Se io sono il vostro Signore cosa mi state portando? Cos'è sta cosa? Cos'è il suo sacrificio? Allora gli dice perché non lo portate al vostro governatore? Un umano che appena vedrà questa bestia cieca zoppa vi prenderà a pedate a voi all'animale pure gli stava facendo capire no? Perché neanche il governatore accetterebbe un' offerta del genere cioè dice mi porti le cose che non servono le cose che ti convengono l'animale che devi buttare e leggiamo ancora il versetto 10 la prima parte sempre di questo testo è sempre Dio che parla ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare quindi sta sottolineando ancora di più il fatto che dice voi accendete il fuoco mi portate queste queste olocauste queste offerte volontarie ma non servono proprio a niente non servono proprio è inutile che accendete il fuoco è inutile che vi predicate per fare questo sacrificio tutto ciò che fate è inutile perché perché portando questo tipo di offerta mi state disprezzando e l'ultimo versetto che voglio leggere è sempre nel capitolo 1 di malachia il versetto 14 in conclusione di questo discorsetto del signore maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al signore una bestia difettosa perché io sono un re grande dice il signore degli eserciti e il mio nome è tremendo fra le nazioni e il signore in questo capitolo sta concludendo diciamo sta concludendo un vero e proprio rimprovero al suo popolo ai sacerdoti e al suo popolo e concludendo dicendo che sarà maledetto chi porterà questa offerta difettosa quindi sta avvisando il popolo che se continuano a portare offerte difettose dio manderà la maledizione quindi non sarà benedetto chi offrirà il sacrificio ma sarà maledetto quindi vedete concludo dicendo questo dio ci sta avvertendo e ci sta avvertendo stava avvertendo non solo al suo popolo al tempo dei leviti ma sta avvertendo anche a noi oggi nel 2024 o non so in quale anno tu stai guardando questo video comunque sia ci sta avvertendo anche a noi oggi perché noi come cristiani sai che dio ci ha fatto sacerdoti e re e se non lo sai leggi del capitolo 1 del libro dell'apocalisse lo scoprirai comunque sia ci ha fatto dei sacerdoti e lui vuole da noi vuole da noi un sacrificio che non potrà mai essere un sacrificio di animali come si usava nell'antico testamento perché l'animale perfetto l'agnello che toglie il peccato del mondo si è già sacrificato quindi noi non possiamo più offrire nessun animale per per offrire a dio qualcosa però dobbiamo offrire lo stesso e nella bibbia c'è un versetto che ci parla della del sacrificio di lode la nostra bocca deve essere santificata per lodare benedire il nome del signore per cantare le sue lodi per innalzare il suo nome per leggere e parlare della parola di dio per parlare agli altri e incoraggiarli sostenerli predicargli l'evangelo ecco questo è quello che si chiama un'offerta di lode che nasce dal nostro cuore dalla nostra bocca e concludo con una domanda e tu stai offrendo il tuo sacrificio di lode al signore durante l'arco di una giornata quante volte canti un inno quante volte leggi la bibbia quante volte ti metti a benedire il nome del signore senza chiedere sto a pregare senza che benedire il nome del signore dice in che senso signore io ti amo tu sei buono ti voglio bene sei importante mi stai guardando si sono felice che tu mi guardi sono felice della tua presenza signore tu sei prezioso per me sei il mio aiuto sei la mia forza questo è lodare e benedire il nome del signore quante volte dedichi del tempo per far questo durante una giornata nel tuo cuore c'è questo desiderio di farlo e allora se non c'è è un gravissimo problema e ti consiglio di iniziare a prendere posizione da questo punto di vista se invece già c'è nel tuo cuore questo che tu sii benedetto ancor di più di quando già sei stato benedetto o benedetta va bene io ti saluto con la pace del signore che dio ti benedica e ci vediamo al prossimo video continuando con altre domande che ho trovato in questo studiando questo capitolo pace di gesù non bello che